eccoci allora ciao ragazzi buon pomeriggio a tutti ciao ragazze felicissimo di essere qui davvero non riesco a trovare altre altre parole il colpo d'occhio è è meraviglioso è soltanto un computer riguardo guardo davanti a me ma sono tantissimi volte di persone che magari sono già passate su questi schermi da questa piattaforma su joiners io giuseppe vi do il benvenuto sulla sulla nostra piattaforma è sostanzialmente un un modo per entrare nel cuore delle aziende quello che joiners fa con le esperienze online e oggi nello specifico lo facciamo con il team di accenture con cui abbiamo lanciato nuovamente il power skills journey che questo percorso bellissimo che parte che parte oggi per farvi scoprire di fatto tutto ciò che vi serve per entrare nel mondo del lavoro in modo facile smart e direi anche abbastanza intuitivo oggi nel primo appuntamento e lo facciamo con roberta pacchiarotta ciao roberta buon pomeriggio ciao a tutti buon pomeriggio come stai bene carica tantissime persone collegate quindi siamo prontissimi è bellissimo vederli tutti qui in video roberta tu sei candidate marketing lead e poi però ci racconti anche che cosa significa questo job title e che cosa fai in in accenture ciao alessandro tiberi digital marketing lead come stai sei carico ben tornato sono tornato sui vostri schermi benvenuti a tutti io appunto sono digital marketing lead che vuol dire in sostanza che mi occupo dei canali social di accenture italia e mi farà piacere in questo in questo appuntamento raccontarvi un po come noi ci muoviamo sui crani social e darvi anche qualche consiglio in merito e mi stavo mi stavo accorgendo che svelando i vostri job title sveliamo anche il il tema del primo appuntamento del power skill journey adesso che vi dico che cosa fa elena fasano di fatto lo spoileriamo definitivamente ciao elena buon pomeriggio recruiting specialist in accenture come stai ciao a tutti benvenuti tutto bene carichi spero che sia una sessione interattiva e che approfittiate tutti della nostra presenza per eliminare tutti i dubbi che avete ottimo perfetto e quindi come dicevo prima roberto alessandro roberta alessandra eh uè vabbè roberta alessandro ed elena con i loro job title ci hanno ci hanno spoilerato quello che sarà di fatto il tema centrale di questo primo appuntamento eccolo qui personal branding social media è curriculum efficace ma in questa schermata io vi faccio vedere anche gli altri quattro appuntamenti del power still journey che saranno dicembre gennaio e poi e poi febbraio vi accompagneremo in in questi mesi non vi preoccupate se volete fare screen screenshot potete farlo ma comunque riceverete il link per iscrivervi anche agli altri agli altri appuntamenti poi le cose sono una più bella dell'altra c'è storytelling ci sono presentazioni efficaci l'email perfetta le regole per lavorare in consulenza insomma e chi ne ha più ne metta io vi voglio dire anche che se partecipate in diretta a quattro almeno quattro dei cinque appuntamenti riceverete poi anche un attestato alla fine di questo di questo percorso e io direi cara roberta che tra trenta secondi ti lascio la parola perché c'è un programma super ricco e non vorrei togliere troppo tempo tanto poi le altre cose importanti ve le diciamo man mano nel frattempo altri trenta secondi come dicevo prima per dire uno che siamo arrivati a quota duecentonovantaquattro e quindi stiamo per tagliare il 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 trecento poi informazione numero due che la chat è a vostra disposizione ho già visto ragazzi che avete l'avete inaugurata state riempiendo e mi auguro possa essere ricca di domande di curiosità perché nella parte finale ci ritagliamo uno spazio per rispondere a tutto quantomeno ci proviamo perché questa lo so che saremo inondati di di domande di dubbi e di e di curiosità e poi mi raccomando rimanete fino alla fine perché perché c'è un quizzone finale che mette in palio tre consulenze con il team di joiners allora facciamo così io lascio il palco a roberta ad alessandro e a elena sarò ovviamente qui dietro le quinte quindi carissimi speaker di accenture per qualsiasi cosa fate riferimento a me perfetto grazie mille giuseppe direi allora di iniziare facciamo giusto un piccolissimo giro di tavolo per raccontare un po di più chi siamo e di che cosa ci occupiamo tanto di nuovo benvenuti a tutti io sono roberta pacchiarotta e lavoro in accenture da circa sette anni e mi occupo di candidate marketing quindi sono candidate marketing lead per l'italia che cosa vuol dire dire che gestisco a livello locale tutte quelle che sono attività di marketing comunicazione dedicate a chi si sta facendo al mondo del lavoro vuole conoscere un po di più accenture quindi sicuramente anche voi fate parte un po di di queste persone quindi mi occupo di quello che è il sito careers ma anche di tutti gli eventi in università in collaborazione con il team recruiting alessandro e elena lascio anche a voi dire qualche parola e poi entriamo subito nel merito grazie roberta io appunto sono digital marketing lead per accenture italia e mi occupo della programmazione delle nostre attività sui canali social di accenture italia e vi invito a questo proposito a seguirci se già non lo fate sui nostri canali social noi siamo presenti oltre che ovviamente su joiners è anche su linkedin su facebook su twitter su youtube e su instagram quindi mi raccomando lasciateci almeno un follow se vi piacerà questo questo appuntamento e sui nostri canali in particolare noi pubblichiamo sia le notizie che riguardano i nostri casi di studio il nostro lavoro con i clienti sia le nostre ricerche i nostri point of view e anche tutte le opportunità che accenture offre ai neolaureati e alle persone con esperienza in generale a tutto l'universo dei candidati quindi vi invito a seguirci così da scoprire anche quali opportunità ci sono per per la vostra carriera bene tocca a me ciao a tutti io sono elena fasano faccio parte del team di talent acquisition di accenture sono in azienda da circa cinque anni e mi occupo della ricerca e della selezione e tutto ciò che c'è dietro questo mondo benvenuti ancora perfetto grazie mille ragazzi io direi di iniziare rompendo un po' il ghiaccio per conoscere un po' la platea che abbiamo davanti quindi giuseppe se facciamo partire il nostro piccolo sondaggio vediamo un po' quanto conoscete sia di accenture ma anche se avete un curriculum e se avete un profilo social professionale dovrebbero esservi apparse le domande datemi datemi conferma ragazzi io le vedo ok ottimo perfetto e quindi io direi che potete iniziare a rispondere ok perfetto allora arrivano anche le risposte cambiano in tempo reale sì 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 eccole 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 perfetto allora c'è la prima domanda che un testa testa ma la risposta è un numero bellissimo direi a questo punto perché il numero dei dipendenti in in accenture tre sono qui a livello mondiale specificiamo a livello mondiale a livello mondiale giusto io direi che almeno tre sono qui anzi direi quattro perché c'era anche c'era anche elena tra tra il pubblico quindi vediamo quanti vediamo quanti sono poi il secondo di che cosa si occupa accenture beh in realtà poi roberta alessandro e ne avevano già svelato e poi gli ultimi due riguardano più la vostra la vostra persona quindi raccontateci un po' più di voi bene bene vedo che stanno rispondendo un po' tutti aspettiamo ancora magari giusto un paio di minuti più che altro per non svelare subito le prime due perché vediamo che invece su sulle altre due sul cv elena probabilmente il tuo il tuo supporto sarà utile vedendo che molti non sono convinti del loro cv e sul profilo social professionale anche qui ale probabilmente ci potrà dare qualche suggerimento utile a me sono sparite tutte le risposte eh sì allora no e cosa è successo che il sondaggio si era si era bloccato si era si era resettato si però ecco noi vi diamo una seconda possibilità perché siamo buoni quindi magari qualcuno di voi aveva sbagliato adesso adesso non può sbagliare più quindi ci risiamo nel frattempo vediamo un po' le percentuali e volano tanto comunque le risposte arrivano arrivano subito e per la prima per la prima io direi che c'è duemila cinquecentosettanta che ha pochi pochi voti però poi le altre le altre sono diciamo tutte un po' lì possiamo dare un primo indizio vogliamo dire quanti siamo in italia ok dai in italia siamo più di ventimila persone quindi questo per dare un'idea del della scala più o meno della della nostra azienda adesso tutti quelli che hanno votato duemila cinquecentosettanta si nascondono dietro al cappuccio tranquilli ragazzi fateci fateci comunque compagnia assolutamente sì ho visto ho visto ho visto Daniele col cappuccio Daniele ti ho visto sei sulla mia sinistra direi che si sono assestati più o meno i numeri su su 220 intorno ai 220 e allora Roberta Alessandro Elena per commentare pure esatto vai diteci diteci pure allora secondo me qualcuno ha cominciato a fare anche qualche piccola ricerca sul nostro sito perché vedendo da come stava andando prima la prima risposta e la risposta corretta sono 733 mila persone quindi siamo veramente tantissimo in tutto il mondo come diceva Alessandro solo in italia siamo più di ventimila e diciamo che questo è uno dei nostri valori fondamentali entriamo però un po più nel dettaglio magari anche dopo di cosa si occupa Accenture accompagnare grandi aziende il loro percorso di trasformazione digitale vedo l'ottantacinque per cento direi che è una grandissima percentuale la risposta è giusta di per sé ma sono in realtà giuste anche tutte le altre perché abbiamo creato con il nostro team di Accenture Song gli effetti speciali di Stranger Things ed è non so se qualcuno di voi è appassionato verrà raccontato anche durante la Games Week nei prossimi giorni a Milano come come è stato fatto abbiamo sviluppato dei configuratori 3d per personalizzare le scarpe di Prada e anche l'artificial intelligence è una delle nostre delle nostre tecnologie che sviluppiamo in collaborazione con i nostri clienti per analizzare i dati provenienti dai satelliti quindi in realtà facciamo veramente tantissime cose a livello internazionale con tantissimi player e tantissime aziende molto grandi sulle altre due beh direi che ripeto l'appuntamento di oggi probabilmente sarà super utile per per tutti sia per chi ha già il CV che per chi non l'ha mai scritto è lo stesso per il social perché magari daremo qualche suggerimento utile per andare a migliorare qualche aspetto di del vostro CV o del vostro profilo social quindi io direi di non perdere altro tempo visto che sono già alle cinque un quarto e cominciamo con il nostro il nostro appuntamento io prendo lo schermo e mi dite magari se si vede la presentazione sì ragazzi poi per chiudere il sondaggio ognuno di voi deve cliccare sulla sulla X quindi la chiusura del sondaggio aspetta voi decolliamo decolliamo perfetto grazie Giuseppe allora come diciamo oggi parliamo di personal branding social media e curriculum efficace non tolgo altro tempo per dire altre cose su Accenture diciamo che ne abbiamo già parlato l'unica cosa che dicevamo prima appunto proprio il fatto che abbiamo tantissime dipendenti in tutto il mondo ma questo perché perché le persone sono il nostro valore fondamentale e perché portiamo valore per le società con cui collaboriamo per i nostri clienti proprio combinando le tecnologie più all'avanguardia con l'ingegno umano e quindi le persone sono al centro di tutto quello che noi facciamo nei nostri progetti ma andiamo direttamente avanti a quello che è l'argomento di oggi quindi personal branding social media e poi il curriculum efficace come immagino molti di voi sono stanno iniziando ad affacciarsi sul mondo del lavoro quindi non so se siete state finendo gli studi siete neolaureati o qualcuno ha iniziato già magari con qualche anno di esperienza qualche mese di esperienza a lavorare però è importante capire in che modo andare a presentarsi nel mondo del lavoro e perché quindi il personal branding è importante in questo in questo ambito comincerei da i punti di contatto tra azienda e candidato che nel momento in cui quindi vi affaccio da mondo del lavoro ci sono tanti modi per entrare in contatto con le aziende da un lato vediamo la parte più aziendale quindi il sito web che può essere sia il sito careers che il sito proprio aziendale in cui andare a scoprire un po' di più quelle che sono le informazioni sull'azienda di vostro interesse quindi non so l'ambiente di lavoro di quali progetti si occupa che tipologia di lavoro offre e social media sempre aziendali che magari in un modo più informale vi raccontano comunque un pochino quello che è l'ambiente lavorativo dell'azienda dall'altra parte invece vediamo motori di ricerca e career days e gli eventi universitari che sono un po' qui modi per conoscere magari le posizioni aperte più in generale non per forza di una determinata azienda ma magari in un settore di mercato o in un ambito specifico career days ci tengo a specificare sono molto importanti perché vi permettono di conoscere anche magari delle persone che lavorano all'interno dell'azienda che siano questi dei recruiter o anche semplicemente dei dipendenti che raccontano cosa fanno all'interno dell'azienda e questo vi dà la possibilità di capire un pochino di più che tipologia di lavoro si fa ma anche com'è lo spirito dell'azienda e quali sono i valori che offre ultimo ma non ultimo il networking personale ovviamente avere dei contatti dei collegamenti con delle persone che lavorano all'interno dell'azienda ma non solo anche dei contatti a livello social magari su dei social professionali come può essere LinkedIn può portare ad allargare proprio le proprie opportunità quindi oggi capiamo un po' in che modo fare personal branding e perché è importante curare proprio il proprio digital brand all'interno dell'ambito lavorativo e nella ricerca quindi del lavoro quindi tutti questi social queste job board ci permettono di creare spesso un nostro profilo ed è importante curarlo nel modo più corretto proprio per raccontare al meglio le proprie esperienze la propria storia il proprio percorso sia di studi ma anche personale e professionale per riuscire a raccontarsi al meglio e essere comunque interessanti anche agli occhi dell'azienda o delle persone con cui si entra in contatto è importante anche per rendersi reperibili perché nel momento in cui siamo noi a candidarci per una posizione ovviamente siamo reperibili perché siamo noi ad aver mandato il nostro curriculum o il nostro contatto ma dall'altra parte avere un profilo molto attivo e molto coerente con quello che è il nostro obiettivo professionale ci permette di entrare in contatto e di essere poi visibili anche a altre persone che non sono nel nostro network e che quindi ci può aprire delle opportunità e lo stesso seguire dei influencer e partecipare a dei gruppi di interesse è utile per anche ampliare le proprie competenze nel settore che ci interessa dall'altra parte perché è importante anche seguire i canali social o le pagine comunque delle aziende che ci interessano del nostro settore perché ci permettono di capire un po' di più in che ambito stiamo andando a cercare il nostro lavoro che tipologia di ambiente c'è ancora determinata azienda quali iniziative speciali fanno e anche la possibilità di interagire con delle persone che già lavorano all'interno di questa azienda in modo poi da prepararsi al meglio quando andiamo a fare un colloquio o quando mandiamo il nostro curriculum che come vedremo dopo è importante avere anche personalizzato in base alle nostre esperienze ai nostri obiettivi professionali quindi io qui direi che entriamo più nel merito di come andare a creare il proprio personal brand o andare a migliorarlo in caso in cui abbiate già un vostro profilo social e lascerei la parola ad Alessandro Grazie Roberto adesso vedete in questa slide un quote, una citazione di Eric Coleman che dice sostanzialmente sui social sostanzialmente siamo già tutti ci siamo già tutti vedevo che nel sondaggio che abbiamo fatto all'inizio più o meno il 70% hanno detto che hanno già un profilo professionale su un social network il restante 30% ha detto che non era sicuro di averlo sostanzialmente già ce l'avete perché per esempio se siete registrati tramite joiners in qualche modo avete già un profilo su un social network professionale quindi l'importante che cos'è? è essere sui social in modo consapevole cioè che cosa vogliamo trasmettere con la nostra presenza e quindi questa citazione nonostante risalga al 2009 tratta dal libro Social Nomis quindi praticamente la preistoria del mondo social è ancora molto attuale l'importante è essere consapevole della propria presenza e quindi abbiamo detto siete già sui social siete già diciamo visibili anche alle datori di lavoro che vi ricercano in un modo o in un altro comunque riescono a trovarvi anche se magari non siete su un social professionale come può essere per esempio LinkedIn ma su un social più personale come un Facebook o un Instagram e quindi vogliamo anche apparire in modo corretto a chi ci ricerca per ragioni professionali e in questo modo vi dovete anche vi dovete pensare con la vostra presenza social come se fosse un brand come se fosse è un po' brutto dirlo ma un prodotto e cosa vuol dire questo? prendere possesso della propria narrativa vuol dire avere il controllo di come ci si racconta dovete essere visibili siete già sostanzialmente visibili è importante a questo punto settare in modo corretto questa narrativa è importante anche approfittare dei social i social hanno anche dei grandi vantaggi ci permettono di raggiungere un numero un numero molto grande di persone una rete professionale molto ampia in tutto il mondo in più lingue di costruire il vostro brand personale e professionale interagendo con queste persone di espandere la vostra rete di conoscenze e di condividere le vostre competenze insomma le possibilità sono davvero tante la realtà è che lo facciamo tutti ma alcuni lo fanno meglio di altri quindi andiamo un po' a vedere quali sono i nostri consigli per farlo al meglio appunto vediamo quali sono i pezzettini dell'ego i building blocks per costruire il vostro brand personale quello che deve essere la vostra narrativa per quanto riguarda la vostra presenza sui social professionali gli argomenti gli argomenti in iglia su che cosa volete essere conosciuti noi usiamo spesso parole in inglese in accenture nel mondo della consulenza in generale purtroppo c'è questo brutto vizio li chiamiamo subject matter expert cioè dove volete essere riconosciuti come esperti di un particolare argomento cominciate a trattare quell'argomento con frequenza sui vostri canali social ovviamente anche gli argomenti generali devono far parte del mix dei contenuti che pubblicate però aggiungendo sempre il vostro punto di vista gli interessi personali essere sui social come persona non è la stessa cosa di essere sui social come un brand o un prodotto che cosa ci differenzia come persona è quello che ci differenzia come esseri umani cioè i nostri interessi il nostro punto di vista e i nostri valori anche quindi è importante mettere insieme tutti questi elementi capire cosa ci interessa trasmettere quali sono gli argomenti che vogliamo trattare come vogliamo trattare gli argomenti di carattere generale quali sono i nostri interessi personali che vogliamo condividere anche con i nostri potenziali datori di lavoro e quali sono anche i valori che ci interessa portare avanti nella nostra vita professionale e personale questa è una breve checklist diciamo mettiamo che avete già creato un vostro profilo su un social network professionale ma non siete sicuri che questo profilo sia efficace provate a pensare a queste domande per cosa voglio essere conosciuto qual è il mio tone of voice il tone of voice sostanzialmente è il modo con cui comunichiamo con le altre persone e il nostro consiglio è di essere il più autentici possibili il più genuini possibili non vogliamo sembrare un robot non vogliamo sembrare un brand appunto un brand di prodotto vogliamo trattare i nostri argomenti in modo personale i miei attuali profili social che cosa trasmettono? sono aggiornati? risalgono per esempio al momento in cui ho iniziato i miei studi o sono stati successivamente aggiornati con per esempio il titolo di laurea di quali argomenti voglio parlare? da questo deriva anche per esempio quali altre persone voglio seguire? quali network professionali voglio mettermi in contatto? che cosa devono cogliere su di me i recruiter attraverso i miei social media? quali sono sostanzialmente le mie competenze le mie skill? e su questo andremo a vedere ci sono tanti social network professionali come joiners o come linkedin per esempio che permettono di taggare le proprie competenze in modo tale che i recruiter possano andare a cercare per ambiti di interesse proprio le skill che vi differenzia in che modo voglio ispirare la mia audience? alla fine nel social e nella comunicazione in generale la cosa più importante è creare un rapporto un contatto diretto con la vostra audience perché vi devono amare che è una parola importante ma perché vi devono leggere perché devono scegliere di andare sul vostro profilo per vedere come trattate un determinato argomento rispetto al profilo di mille altre persone e oltretutto in che modo potete anche ingaggiare questa audience questo pubblico questi contatti che avete e per esempio aggiungendo delle call to action una richiesta alla fine di un post per esempio chiedendo quali sono i consigli o le opinioni rispetto a un determinato argomento che avete appena esposto in un vostro post con quale tipo di network dovrei interagire so per esempio che mi interessa l'artificial intelligence forse è il caso di cominciare a seguire di interagire con questi esperti dell'argomento magari possono essere i professori della vostra università possono essere i grandi influencer sui social possono essere dei manager di aziende che vi interessano che trattano questi argomenti di frequente e quanto tempo posso dedicare non tutti ovviamente possiamo essere sui social 24 ore su 24 meno male aggiungo l'importante è avere una cadenza coerente cioè costruire un proprio diciamo piano editoriale personalizzato sulla base del tempo che è riuscito a dedicare può essere anche soltanto una volta a settimana un paio di volte a settimana faccio un veloce controllo dei miei social di quante volte sono stato citato delle mie mention dei commenti o dei post delle persone del network che piano piano costruisco e creo sulla base del mio personal brand ora una volta che il profilo è stato costruito dobbiamo anche iniziare a pensare a quali contenuti posso pubblicare e come questi contenuti possono essere freschi e rilevanti per prima cosa come dicevamo prima è importante anche una ricerca del linguaggio quindi un linguaggio informale un linguaggio simile a quello che potreste usare con i vostri studenti universitari con i vostri compagni di corso non il linguaggio che usate per esempio nelle mail che mandate ai professori non scrivete per esempio in terza persona la vostra bio su LinkedIn se siete incerti sull'uso dell'inglese non usate l'inglese preferite l'italiano se invece ovviamente mi sentite sicuri di voi pubblicate anche in inglese insomma parlate come se parlaste con un vostro pari non come se fosse una lettera di presentazione a un'azienda e per quanto riguarda i contenuti ci sono tantissimi spunti da cui potete partire le vostre esperienze personali se avete per esempio fatto una ricerca un progetto universitario che vi interessa condividere le ricerche di terzi aggiungendo ovviamente un vostro commento cultura pop potete partire da una serie per esempio ritorno al tema della I se avete visto un episodio di Black Mirror particolarmente interessante volete trarne spunto lì ovviamente potete citare qualsiasi cosa le tendenze di business eventi a cui avete partecipato contenuti freschi comunque Q&A interagendo con i vostri follower condividendo notizie dietro le quinte rispetto a eventi che avete anche organizzato confronti con altri con altri studenti con i vostri pari casi di studio di aziende oppure più semplicemente per tutti questi argomenti il vostro punto di vista il vostro punto di vista con la vostra voce ora ci sono tante regole nei social media voi sapete che ogni volta che vi iscrivete a una piattaforma dovete fare uno scroll infinito per poi accettare tutti i terms of service che nessuno ovviamente legge il nostro consiglio è sostanzialmente uno è pensare prima di postare quindi il buon senso prima di tutto se dovessero essere un po' più specifici possiamo dare queste quattro regole la prima di nuovo essere consapevoli di quello che si vuole comunicare quindi comunicate in modo deliberato pensate sempre che prima di postare che quello che postate potrebbe essere visto potenzialmente anche da vostri potenziali datori di lavoro siate trasparenti e fornite il contesto necessario quindi per esempio questa è una cosa che suggeriamo anche ai nostri dipendenti ma questo vale anche per gli studenti o per le persone che cercano un lavoro se postate qualcosa mettete in chiaro che la vostra opinione è a titolo personale e non riferita per esempio a istituzioni a organizzazioni aziende alle quali appartenete e ovviamente pubblicate sempre nei vostri contenuti in quello che scrivete rispettate sempre la realtà dei fatti quindi non vi attribuite cose che non sono perfettamente precisamente vostre perché poi questo ovviamente se mi è scoperto va in ficare la vostra credibilità rispettate le regole del diritto d'autore spesso su internet ma questa è una cosa che facciamo tutti tendiamo a pensare che il diritto d'autore non valga o valga in modo diverso in realtà non è così così come non possiamo fare mille fotocopie dei libri di testo e poi magari rivenderli o passarle sapete meglio di me stessa cosa è valida anche sui social network quindi per esempio non possiamo per esempio fare una fotografia o una fotocopia o una scannerizzazione di una pagina di un libro per poi pubblicarla perché in quel caso sarebbe una direzione del diritto d'autore e poi proteggete la vostra privacy prima di tutto e anche quell'altro quindi per esempio nelle fotografie se volete pubblicare una fotografia di un gruppo di persone prima chiedete il permesso alle persone che volete concludere nel vostro post andiamo ora a vedere quali sono diciamo gli elementi di un profilo tipo su un social network professionale non ce ne vogliono le amici di joiners noi qui abbiamo preso la plancia di controllo di linkedin ma sono tutti elementi che più o meno ritroviamo in quasi tutti i social network professionali quindi quello che vedete è più o meno è valido anche per joiners e anche per altre realtà andiamo a vedere un po' gli elementi la foto del profilo la foto professionale si tratta della prima cosa che le persone vedono quando visiteranno il vostro profilo quindi sceglietela con attenzione i consigli che possiamo dare su questo sono di scegliere una foto che ritrae solo voi possibilmente con lo sguardo in camera perché crea ovviamente più rapporto con chi guarda il vostro profilo è una foto recente di non più di tre o cinque anni ma dipende anche dalla vostra età ovviamente sorridente invitante a colori e senza filtri così da non risultare troppo artificioso e ovviamente potete anche cambiare la foto di sfondo questo rende il vostro profilo forse un pelo più professionale potete scegliere sia un'altra vostra foto sia un colore o diciamo un'immagine più grafica però lasciarla diciamo senza una customizzazione forse risulta un po' meno professionale poi andiamo a vedere la posizione o sommario o headline sostanzialmente quello che appare sotto il vostro nome qui consiglio di essere coerenti di presentarvi nello stesso modo sui vostri diversi canali per esempio su joiners o su linkedin e il consiglio qui è visto che avete solo 120 caratteri per questa su linkedin in particolare per questo modulo di usarli al meglio includendo il vostro ruolo attuale quindi aggiornarlo se eventualmente non è aggiornato potete aggiungere anche le vostre skill in questo caso potete aggiungere per esempio ruolo trattino con le skill più importanti e le vostre qualifiche particolari per esempio se avete vinto di recente un premio questo sarà anche nel motore di ricerca questo sarà visibile quando i recruiter vanno a cercare diversi profitti passiamo poi al modulo about o informazioni questa è la vostra opportunità di parlare delle vostre competenze delle vostre esperienze e obiettivi per creare dei contatti preziosi le prime tre righe su linkedin di questo modulo non richiedono un click quindi usatele usatele bene di nuovo qui consiglio di scrivere in modo naturale autentico genuino in prima persona con un linguaggio appunto diretto e scorrevole e scrivere in periodi completi e in paragrafi brevi di evitare se possibili dei bullet point infinite liste lunghissime e di aggiungere comunque delle keyword cioè delle parole chiave riconoscibili dall'SEO quindi della search engine optimization questo vuol dire per esempio che se volete candidare a un profilo o a una posizione che ha a che fare con di nuovo posso citare l'artificial intelligence ma anche per esempio non so il digital marketing ricordatevi di inserire all'interno di questo modulo le parole che è riconducibile a quell'ambito e poi appunto all'interno del torno indietro all'interno del proprio profilo è possibile anche allegare il proprio codice non vita come pdf quindi fatelo perché questo diciamo toglie lavoro e rende più semplice il recruiter risalire poi alle vostre competenze guardando questo profilo e poi una volta che avete costruito il vostro profilo completo è importante anche creare il vostro network questo lo potete fare seguendo le aziende che vi interessano seguendo appunto gli influencer di quel determinato ambito le singole persone che lavorano all'interno di quelle aziende se le conoscete potete inviare per esempio se le avete conosciuto durante un career day o un evento universitario potete inviare la vostra richiesta magari con una breve presentazione dicendo ci siamo conosciuti li ho visto mi ha fatto piacere partecipare eccetera è sempre più efficace nel momento in cui mandiamo una richiesta di amicizia o un follow raggiungere una breve presentazione e poi una volta che siete all'interno di questa network è importante anche interagire con queste persone lasciare un commento lasciare un like una reazione un loro post LinkedIn per esempio è una social network che premia molto l'interazione sostanzialmente potete iniziare già a costruirvi un vostro feed un vostro profilo già solo interagendo con i contenuti delle altre persone così da creare anche diciamo un inizio del vostro personal branding partendo dai contenuti di altri oltretutto su LinkedIn ma anche su altri social network professionali è possibile entrare a far parte di gruppi gruppi tematici legati a determinati interessi LinkedIn ha oltre un miliardo di utenti e mi pare ricordare quest'anno ha raggiunto gli oltre 2 milioni di gruppi quindi ci sono gruppi per qualsiasi tipo di interesse una volta all'interno di questi gruppi potete parlare di quelle tematiche specifiche e spesso all'interno di queste comunità vengono anche condivise delle opportunità di lavoro relative al tema trattato andiamo ora a vedere un esempio di un post ben fatto un post che ha raggiunto anche un'interazione un livello di interazione molto alto e cerchiamo di capire un po' quali sono gli elementi che costituiscono un post ben fatto per prima cosa partiamo dagli asset quindi che cosa potete fare per arricchire il vostro post oltre al testo e alla scrittura ben realizzata e sui social network in generale funzionano molto i contenuti rich quindi i contenuti che oltre al test includono anche immagini video documenti in pdf o anche dei sondaggi dei poll quindi il nostro consiglio è quello di includere sempre un'immagine un video così da aumentare l'interazione sul vostro contenuto poi di nuovo questo teniamo sempre a sottolinearlo siate personali parlate in prima persona raccontate come quello che state trattando vi ha coinvolti personalmente in questo caso potete vedere appunto un nostro collega una persona della nostra leadership che racconta come il team di Accenture Song ha lavorato alla realizzazione degli effetti speciali di Stranger Things taggate le persone e i luoghi rilevanti questo permette di aumentare il reach del vostro post perché se le persone che vengono taggate poi riprendono il vostro post ovviamente si espande il numero di persone che vedrà i vostri contenuti e oltretutto ogni click al tag conta come interazione aumenta al vostro livello di interazione più aumenta l'interazione più gli algoritmi delle piattaforme social tendono a premiare il vostro post e a farlo vedere più spesso nei feed degli altri utenti stessa cosa è valida per gli hashtag ovviamente non vogliamo includere migliaia di hashtag non rilevanti ma utilizzare degli hashtag pertinenti a quella conversazione per attingere alle reti che trattano in quel momento QIT e poi appunto fornite il contesto il come il dove il perché e siate tempestivi per esempio questo post è stato pubblicato subito prima del finale di stagione della quarta stagione che attendevamo tutti di Stranger Things e quindi diciamo l'attenzione era molto alta in quel momento sui contenuti che riguardavano Stranger Things c'era molto discorso online su Stranger Things e il nostro collega ha approfittato in quel momento per citare il nostro coinvolgimento nella realizzazione degli effetti speciali e attirate i lettori per coinvolgerli quindi includete una call to action che in questo caso era un link a un nostro showreel che mostrava come erano stati realizzati questi effetti speciali ma che può essere anche una richiesta per esempio di commenti di condivisione di opinioni da parte dei vostri follower e poi ringraziate se è un'attività un evento un contenuto che ha coinvolto anche altre persone ringraziate tutte quelle persone che sono state coinvolte in questa attività e poi vediamo anche quali sono i possibili contenuti da associare al post la foto il documento per esempio su LinkedIn potete caricare un pdf che può essere anche un pdf di un vostro lavoro se avete anche per esempio della vostra tesi di laurea se ritenete che possa essere utile mettere anche solo un estratto di una vostra ricerca di un vostro lavoro potete farlo potete condividere per esempio un sondaggio il sondaggio ovviamente ha già in sé una call to action e quindi attira molta interazione e vi lascio con alcuni poi ovviamente siamo aperti alle vostre domande vedo che alcune sono già arrivate ma poi avremo una sessione alla fine dedicata proprio a rispondere alle vostre domande vi lascio con alcuni suggerimenti diciamo un po' più che forse non conoscete rispetto alla pubblicazione sui social il primo l'abbiamo già visto cercate sempre di includere nelle vostre post un'immagine un video comunque un contenuto perché questo aumenta di molto l'interazione usate un voice appunto autentico colloquiale evitate di usare molti acronimi questo vale soprattutto per noi noi ne siamo colpevoli spesso sui social parliamo come se tutti fossero all'interno del nostro mondo consulenziale ma non è così cerchiamo di essere più comprensibili dal più largo pubblico possibile tagliamo appunto le persone luoghi rilevanti usiamo gli hashtag forniamo il contesto e poi dal punto di vista tecnico ci sono alcune cose che possiamo fare per migliorare il reach e quindi la portata il numero di persone che vedranno i nostri contenuti questo è valido su linkedin ma anche su altre piattaforme la prima cosa da fare è rispondere ai commenti ricevuti se il vostro post inizia a raccogliere dei commenti questa è una cosa molto positiva perché vi permette di proseguire la conversazione successivamente una volta che sono arrivati qualche commento potete rispondere ai commenti creare così quindi sostanzialmente una specie di matrioska di contenuti con le conversazioni che si sviluppano sul post iniziale un'altra cosa da tenere a mente è che gli algoritmi premiano la vostra interazione con i contenuti di altre persone del vostro network quindi dopo aver pubblicato un post andate a vedere se i vostri colleghi di corso i vostri amici i conoscenti persone del vostro network hanno pubblicato di recente e interagite con i loro post in questo modo anche loro vedranno più spesso il vostro post appena pubblicato sui loro feed e poi un modo per dare diciamo una rinfrescata ai contenuti che secondo voi meritavano più attenzione è quello di lasciare il vostro commento dopo 24 ore per aumentare nuovamente il reach così che le persone che vi seguono vedano per esempio Giorgio Rossi ha pubblicato un commento e questo vi permette di far risalire nell'algoritmo il vostro post già pubblicato una cosa da non fare è però non commentare per primi il vostro post perché questo danneggia la portata perché ovviamente sarebbe troppo facile altrimenti che quindi l'algoritmo viene influenzato negativamente se commentiamo per primi stessa cosa vale per gli edit ai post quindi se editate troppe volte se fate troppe correzioni al vostro post dopo averlo pubblicato la portata il reach del post viene penalizzata questo soprattutto nei primi 30 minuti quindi se avete visto se c'è un errore o comunque una mancanza magari non avete taggato una persona che volevate taggare potrebbe essere utile attendere 30 minuti e eventualmente fare l'edit successivamente ora facciamo ricapitoliamo brevemente quello che siamo detti e diamo gli ultimi consigli su come costruire appunto il vostro personal branding come curare la vostra reputazione online e agire con consapevolezza sui social rispetto ai contenuti di altri ascoltiamo sempre se vediamo come si sviluppa la conversazione capiamo chi sono gli interlocutori di quella conversazione se è il caso di intervenire non selezioniamo superficialmente i contenuti valutiamo se si tratta purtroppo ormai pieno di fake news capiamo bene da quali sono le fonti dei contenuti con cui interagiamo non esageriamo nei contenuti non non facciamo dichiarazione troppo e troppo e troppo estremiste cerchiamo di non urtare la sensibilità di chi ci legge soprattutto se siamo su un social network professionale teniamo conto di qual è il tono della conversazione da tenere condividiamo le nostre passioni personali le nostre competenze le nostre idee in modo consapevole con l'obiettivo di dare un valore aggiunto alla discussione quindi il nostro punto di vista è la cosa che ci differenzia se vogliamo interagire con un contenuto che riguarda un argomento anche tecnico è importante dare il proprio punto di vista personale quindi quello che avete imparato nei vostri corsi di studio quello che state facendo nella vostra carriera aggiungete sempre un tocco personale non fingendo però di di essere stati coinvolti o di di conoscere cose che in realtà non conosciamo perché ovviamente se ci vogliamo poi successivamente candidare a una posizione e viene fuori che così non è il recruiter facendo una dando un'occhiata al vostro profilo può riscontrare questa questa mancanza e e poi appunto instauriamo con il network e con le persone che ci interessa interagire delle relazioni autentiche costruttive quindi ricordiamo sempre che dietro ogni profilo c'è una persona reale e dai social network professionali possono scaturire grandi opportunità di crescita di carriera e anche di crescita personale quindi approfittiamo del fatto che esistono queste community per creare un proprio nostro percorso di crescita grazie mille lascio la parola a questo punto a Elena per trattare invece la realizzazione di un curriculum efficace grazie Alessandro c'è una domanda per te non so se vuoi rispondere adesso o aspettiamo la fine allora leggo subito condivido appieno l'utilizzo attivo dei social media professionali come Linkedin per farsi notare è possibile pubblicare la partecipazione alla power skills giorni ad esempio se sì come consigli di farlo mi viene il dubbio non rispettare il diritto l'autore se pubblico ad esempio una foto la giustissima domanda mi fa piacere che tu abbia pensato anche il diritto dell'autore perché come vedete qua sotto è segnato anche il copyright in questo caso noi ti diamo l'assenso direi Elena e Roberta se siete d'accordo io ci penso un attimo diamo l'assenso a te e a tutti gli altri direi sì assolutamente ci fa molto piacere che vogliate pubblicarlo e mi sembra anche possa essere eventualmente utile a voi quindi assolutamente screenshotate pure e pubblicate sui vostri canali perfetto allora passiamo al curriculum visto che l'87% di voi nel sondaggio precedente ha dichiarato di avere un CV ma di non esserne convinto quindi oggi provo a dare qualche suggerimento che possa aiutarti nella redazione o eventualmente nella rielaborazione del vostro curriculum approfondiremo in particolare ci soffermiamo su due aspetti da un lato la forma e dall'altro la sostanza cercherò di essere breve di modo poi da lasciare spazio alle vostre domande nel frattempo sto provando a prendere possesso del desktop ma non non riesco Roberta se se riesci ok io vedevo le slide andare avanti ma se vuoi vado io mi dici quando andare nessun problema ok sì meglio preferisco scusate il bello della diretta nessun problema allora partiamo dalla forma qui vi diamo alcuni consigli che vi suggeriamo di ascoltare a prescindere dal modello che decidiate di utilizzare è importante che il vostro cv sia sintetico avrete sicuramente già sentito dire dare questo consiglio è importante che inseriate informazioni mirate che non vi dilunghiate troppo nell'inserire dettagli o nel raccontare quella che è l'attività che svolgete questo perché perché poi sarà durante il colloquio di selezione che avrete modo di raccontare e condividere tutti i dettagli che volete altro suggerimento sembrerà banale ma vi assicuro che dopo aver visto centinaia di cv non lo è affatto controllate sempre e fate attenzione ad eventuali errori grammaticali o di sintassi questo non significa che nel caso in cui ci fosse un errore di distrazione non è quello il problema al contrario se questi errori si ripetessero nel corso di tutto il cv sarebbe sinonimo di una poca attenzione di una poca cura per cui prestate molta attenzione a questo aspetto la coerenza questa è una raccomandazione non raccontatevi per quello che non siete cercate di inserire le esperienze che rispecchino le vostre competenze quello che avete vissuto a livello formativo a livello professionale nell'arco della carriera questo è importante anche perché nella fase di colloquio nel caso in cui non siate coerenti possono emergere ovviamente delle incongruenze e questo poi può svantaggiarvi nella valutazione finale ultimo consiglio la personalizzazione l'ha ripetuto anche Alessandro prima vale per i social vale per il cv importante che il cv vi rispecchi e altra cosa importante a seconda del ruolo che voi volete ricoprire è che personalizzate cerchiate di customizzare il cv sulla base dell'annuncio per cui vi state candidando faccio un esempio concreto nel caso in cui voleste candidarvi in ambito di sicurezza informatica in quel caso sarebbe utile che nel vostro cv evidenziaste quelle esperienze formative e o professionali se ne avete che avete avuto e che sono in linea con quel settore questo sicuramente può agevolarvi di molto fino a qui è tutto chiaro ci sono domande io andrei farei già una sessione un po' interattiva allora vediamo un po' guardami pure tu perché sì 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 guarda Elena stavo leggendo in realtà le domande per ora sono rivolte più che altro ad Alessandro e quindi alla parte di LinkedIn quindi direi magari comunque tutto chiaro andiamo un po' più avanti e vediamo un po' perfetto poi altre cose da non dimenticare inserire sempre le proprie esperienze dalla più recente alla meno recente ricordarsi di inserire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e segnalare l'eventuale appartenenza alle categorie protette ok veniamo invece alla sostanza quindi qui andremo a vedere quelli che sono i paragrafi che indubbiamente devono essere presenti all'interno del vostro cd a prescindere poi dal modello e dal formato che decidiate di utilizzare questi paragrafi sono Roberta se torno un attimo indietro faccio un attimo una panoramica grazie anagrafica formazione esperienza lavorativa competenze ob interessi nell'anagrafica che dovrebbe essere la prima sezione ok quindi cognome e nome date e luogo di nascita residenza domicilio numero di cellulare email e contatto link al vostro profilo personale e linkedin qui volendo se per caso magari avete sviluppato un sito web o qualcos'altro di questo tipo potete inserire tranquillamente anche in questa sezione il link al vostro sito personale ovviamente mi raccomando fate in modo che questo link sia sempre inerente alla posizione per cui vi candidate passiamo invece al prossimo paragrafo che è quello della formazione questo paragrafo può essere suddivisibile in due sottuare chiamiamole chiamiamole così da un lato formazione scolastica e dall'altro formazione extrascolastica nella formazione scolastica inserite sempre data di inizio e data di fine titolo conseguito istituto presso il quale avete conseguito il titolo se volete poi essere estremamente precisi alcuni datori di lavoro lo richiedono anche il voto di laurea lo stesso vale per la formazione extrascolastica in questo sottomodulo potete inserire eventuali vostre partecipazioni a scambio all'estero erasmus o corsi sull'esperienza professionale lavorativa appunto qua inserirete sempre ricordate dalla più recente alla meno recente le vostre esperienze professionali anche qui le date data di inizio data di fine nome del datore di lavoro titolo che avete quindi il title che avete all'interno dell'azienda in cui lavorate o presso cui svolgete il tirocinio e in breve l'attività poi che avete svolto svolgete all'interno del vostro datore di lavoro passiamo al prossimo paragrafo molto velocemente sezione dedicata alle competenze qui potete inserire le vostre competenze informatiche o gli strumenti che sapete utilizzare oppure se avete conseguito determinate certificazioni oppure qual è il livello di conoscenza delle varie lingue in questo paragrafo vedo spesso un elenco di soft skill nel senso che è una nuova tendenza anche no inserire diverse capacità che uno può sviluppare nel corso degli anni il suggerimento è non fare un elenco troppo lungo delle soft skill perché il rischio diciamo è di apparire leggermente fumosi quindi magari individuate nei due o tre problem solving capacità di lavorare in team e inserite solo quelle non è utile fare un elenco sterile di una decina o più di soft skill ok poi ultimo paragrafo ob interessi anche qui sentitevi liberi di inserire interessi attività sportive ruoli in associazioni meglio ancora se questi interessi e hobby si conciliano con la posizione per la quale vi state candidando quindi se ad esempio leggete un annuncio dove richiesta capacità di lavorare in team a quel punto sarebbe ottimale che voi tra gli hobby o gli interessi inserisste che avete giocato in una squadra di pallavolo quindi è molto probabile che la vostra capacità di lavorare in squadra lavorare in team si sia molto sviluppata magari rispetto ad altre passiamo intraleggo una domanda sul CV europeo adesso ci arriviamo qui vi forniamo una vista di quelli che sono vari modelli sottolineo che non è importante il modello che scegliete l'importante è che cerchiate di seguire tutte le indicazioni che vi abbiamo dato sul CV europeo questa è una domanda che ricevo spessissimo personalmente penso che sia un modello che molto spesso non risulti efficace per una serie di ragioni in primis perché è molto strutturato molto complesso per cui nel momento in cui si salta un campo o non si compila così come richiesto rischia di diventare molto caotico quindi io personalmente non lo consiglio detto che ci sono alcune aziende che invece richiedono proprio quel tipo di formato quindi in quel caso ovviamente attenetevi a quella che è la richiesta dell'azienda benissimo io ho finito scatenatevi in realtà Elena si sono già scatenati qui in chat quindi direi facciamo facciamo così perché allora io avevo la chat aperta stavo un attimo prendendo un po' un po' di appunti però a questo punto Roberta Elena e anche Alessandro date anche voi un'occhiata anche dalla chat perché tanto le domande sono davvero tante quindi magari quella che vi sembra anche più interessante quella che è una risposta una risposta particolare e quindi insomma poi selezioniamo selezioniamo quella magari possiamo partire da da quella di Stefania allora domanda sulle esperienze lavorative da inserire nel curriculum è meglio inserire tutte le esperienze lavorative per non avere buchi temporali o inserire solo le esperienze in linea con l'offerta per cui ci si candida allora dipende io immagino che voi siate magari alla fine di un percorso di laurea quindi non immagino che abbiate fatto chissà quante esperienze poi mai direi mai ognuno la sua storia personale non so nello specifico anzi inviterei chi ha scritto la domanda di intervenire direttamente così mi spiega un po' meglio cosa cosa intende se sono troppe effettivamente non inerenti sarebbe meglio inserirne una per far vedere che comunque durante il corso di studi si è lavorato altrimenti sarebbe meglio non rischiare di inserirne troppe non inerenti al al posto per cui ci si candida allora io intanto Stefania ti ho attivato l'audio si sono io in realtà già ho terminato parte del mio percorso di studi quindi già ho svolto anche un tirocinio e attualmente sto lavorando per la posizione che vorrei continuare a far crescere e la questione era ho svolto il tirocinio poi dopo ho dovuto svolgere altri lavori per non stare senza far nulla e poi ho ripreso di nuovo lo stesso lavoro ok però ok allora hai risposto puoi inserirlo magari non dove però parli dell'esperienza professionale su cui ti vuoi concentrare magari creando un sottoparagrafo in cui inserisci esperienze extra ti faccio un esempio proprio per sottolineare che tu in quel lasso di tempo ti sei comunque dedicata ad altre attività se però queste altre esperienze non sono in linea con quello che tu vuoi fare in futuro ti direi che sarebbe poco rilevante inserirle e considera che poi c'è sempre il colloquio di selezione ci via uno strumento funzionale ma poi quello che è importante è il colloquio dove si ha modo anche di raccontarsi e di poi far capire quello che è il percorso personale ok grazie mille grazie a te allora aspetta che mi avevo salvata un'altra beh io direi di rispondiamo a questa quina quella di Fabiana la domanda più importante come si può entrare lavorare entrare in contatto e quindi lavorare con Accenture chi si lancia nella risposta Roberta Elena Alessandro guarda posso rispondere anch'io ci invii il tuo cv aggiungi anche direttamente me sul linkedin e vediamo insomma di trovare qualche posizione in linea con le tue aspirazioni e il tuo percorso perfetto comunque le domande sono tantissime quindi ragazzi se non riusciamo a rispondere a tutti ci scusiamo in anticipo quella cosa bella è che tante domande sono collegate l'una con l'altra quindi in un modo o nell'altro proveremo a colmare tutte le lacune allora Gabriele in che modo valorizzare i corsi effettuati individualmente sul curriculum? come scusami ti ho perso in che modo valorizzare tutti i corsi effettuati individualmente sul curriculum ovviamente valorizzarli lì allora ti direi innanzitutto inserendoli semplicemente all'interno del cb e poi magari seguiamo sempre il criterio della coerenza con la posizione per cui ci candidiamo quindi se tu hai conseguito dei corsi che sono in linea tanto vale inserirli mettere in ordine data data nome della certificazione direi che è sufficiente e poi durante il colloquio avrai modo di parlarne per raccontare più dettagliatamente quello che è stato il corso ottimo perfetto allora torno a vedervi anche io e a riuscire a leggere le domande e poi Giuseppe avevo visto un paio di domande vai Alessandro vai Alessandro perché vado in ordine che erano arrivate all'inizio allora domanda per Alessandro condivido appena l'utilizzo attivo delle social media professionali come LinkedIn per farsi notare questo è lo abbiamo già let quindi sì se volete pubblicare la vostra partecipazione ho girato in chat i nostri tag Accenture Italia così da da renderci anche visibili i vostri post e poi aggiungeremo anche delle nostre reazioni dai nostri canali corporate avrei una domanda anche io ha senso chiedere collegamenti a persone a persone con cui si hanno già dei collegamenti in comune ma che non conosciamo direttamente e che lavorano in un settore azienda che rientra tra i nostri obiettivi professionali quindi persone che non conosciamo direttamente sì possiamo farlo però aggiungendo una nostra presentazione se sono persone con cui non abbiamo già interagito in passato presentiamoci come se foste a un evento di networking quindi vi conosco perché abbiamo queste amicizie in comune abbiamo questi contatti in comune sono interessato anch'io a quest'ambito vuoi accettare la mia richiesta poi domanda successiva è corretto utilizzare LinkedIn per scopi personali o una volta che si lavora presso un'azienda LinkedIn diventa un filtro per il dipendente e quindi postare solo temi legati all'azienda a cui si fa parte e no non non diventa soltanto un aggregatore di contenuti relativi all'azienda anzi noi stessi quando facciamo diciamo dei corsi social media ai nostri dipendenti consigliamo sempre uno uno split tra 80% di contenuti che non riguardano per nulla Accenture e un 20% di contenuti che riguardano invece la nostra azienda perché il fatto di diventare un dipendente di un'azienda che può essere Accenture o può essere un'altra azienda non vuol dire diventare un megafono per quello che fa l'azienda l'importante è comunque mantenere la vostra voce personale e questo arricchisce sia voi che l'azienda stessa perché significa che le nostre persone vengono riconosciute come esperti del loro campo non soltanto come dei robotini che ripetono quanto dice Accenture un'azienda quindi assolutamente il vostro profilo continua a vivere vita propria anche dopo che venite a sub è importante ovviamente rispettare tutte le regole riguardo il social media policy di una determinata azienda ma quello vale per tutti e la più importante è la confidenzialità quindi se avete a che fare con un cliente con un prodotto un lancio di una campagna eccetera è importante non fare spoiler domanda successiva ho sempre avuto la percezione che LinkedIn fosse una faccia differente rispetto magari a Instagram o anche Twitter quanto per te Alessandro è importante dedicarsi a post su attualità e hobby rispetto magari a temi più legati all'ambiente professionale i recruiter come utilizzano LinkedIn per i candidati guardando la persona in generale magari più ha l'attenzione a descriverli come in passato grazie mille quindi ovviamente lascio la seconda parte Elena e la prima parte invece sì Twitter LinkedIn è un social diverso come sono in generale diversi social professionali volendo potete trattare anche gli stessi argomenti su Instagram e su LinkedIn per esempio se partecipate a una grande conference di sviluppatori come può essere Codemotion non so se quanti di voi la conoscono l'importante conferenza di sviluppatori che si tiene globale ma si tiene anche in Italia potete pubblicare la notizia della vostra partecipazione su Instagram e su LinkedIn il post su Instagram avrà un taglio diverso perché è diversa l'interazione su Instagram è diverso il tono di voce che dovete adottare quindi per esempio su Instagram potete fare delle foto di una gallery con i panel a cui avete partecipato gli speaker i boot che avete trovato più interessanti su LinkedIn invece potete aggiungere qualcosa di più sui contenuti che vi è interessato in particolare e sempre pensando al fatto che LinkedIn è il canale su cui poi andranno a visitare anche i recruit quindi sì sono social diversi è importante però ricordare che ora come ora se qualcuno inserisce il vostro nome sui motori di ricerca molto probabilmente può risalire a tutti i vostri profili quindi in ogni caso manteniamo anche un minimo di decoro anche sugli altri canali Elena io ho una lista di domande direbbero per te che le dici sei pronta? sono pronta allora Bruno ti chiede se puoi inserire nel curriculum un master che farà tra qualche mese allora direi che se non è ancora iniziato può anche aspettare qualche mese nel momento in cui inizia sì di inserirlo Antonella ti chiede se non ho esperienze lavorative come posso riempire la sezione delle esperienze lavorative? allora se non hai esperienze lavorative non inserirai l'esperienza lavorativa perché è importante fare una differenza tra un neolaureato e una persona che invece ha già una pregressa esperienza professionale nel caso di neolaureati le aziende non si aspettano che abbiano già acquisito un'esperienza professionale anzi l'obiettivo poi dell'azienda è proprio formarti e fare in modo di prepararti a quello che sarà l'inizio della tua carriera per cui assolutamente non ti far nessunissimo problema se non hai esperienze professionali è giusto che tu non ne inserisca ritorniamo al discorso della coerenza no? non scriviamo cose tanto per scrivere anche perché poi durante il colloquio verrebbe in ogni caso fuori quindi atteniamoci a raccontarci per quello che siamo Fabiana ma con Canva tutte queste info in una pagina non entrano si può evitare di scrivere qualcosa o te la giro te la giro come cosa possiamo ritagliare cosa possiamo omettere perché ma allora a parte che io non ho parlato di una pagina nel senso che l'importante è che non sia eccessivamente lungo adesso che sia una pagina o che sia di due pagine o anche di tre non succede niente l'importante è che le descrizioni non siano eccessivamente dettagliate perché considerate che dall'altro lato avete visto prima noi in Accenture siamo 20.000 persone e qualcuno deve pure averli assunti questi dipendenti di conseguenza riceviamo milioni di cibi al giorno e quindi essere sintetici significa anche agevolare la lettura di chi sta dall'altro lato e aiuta a valutarvi con più velocità secondo me è una soluzione win-win perché da un lato chi fa un cibi sintetico riesce a far risaltare alcune capacità di sintesi di precisione dall'altro lato chi lo riceve riesce velocemente ad analizzare tutte le candidature che riceve allora per Elena Gilda ti chiede esperienze di volontariato dove è meglio inserirle? allora secondo me negli hobby interessi tranquillamente perfetto allora Tatia io vorrei lavorare nel settore audiovisivo come allegare e inserire il portfolio nel curriculum ecco allora noi ovviamente io vi ho parlato in linea generale no di quelli che sono i suggerimenti per alcuni tipi di professioni non è detto che il cibi sia lo strumento giusto se penso appunto alla domanda che abbiamo appena ricevuto molte volte è richiesto il portfolio da un lato e il cibi dall'altro quindi anche qui attenetevi a quello che è richiesto dall'azienda per cui volete fare application e anche tenete conto del ruolo che volete ricoprire perché per alcuni lavori è essenziale no puoi far vedere il proprio portfolio e ovviamente non puoi inserire un portfolio in un cibi cioè sono due cose che devono direi rimanere separate perfetto ottimo Sara chiede una laurea in giurisprudenza è affine con la vostra azienda? allora sì è affine sicuramente il nostro focus è sulla tecnologia no quindi ricerchiamo indubbiamente tante figure che siano che abbiano conseguito e seguito un percorso scientifico però assolutamente abbiamo diverse posizioni compatibili con percorsi di laurea incentrati più su materie umanistiche sono più limitate rispetto a quelle scientifiche no però insomma abbiamo vari percorsi tra questi percorsi uno che mi sento poi di segnalare me ne sono occupata in prima persona io lavoro in ambito di security quindi abbiamo pensato ad un percorso si chiama la Pink Academy non so se ne avete mai sentito parlare è un percorso che prevede un reskill di neolaureate in materie neolaureate neolaureate in materie umanistiche per lo più neolaureate perché Pink Academy pensato per le donne dove con un percorso di sei mesi si introducono a materie più scientifiche tecniche tecnologiche c'è spazio un po' per tutto è ovvio che poi dipende dai vari momenti ha senso candidarsi per due posizioni differenti o crea poca credibile può sembrare poco credibile chiede Giuseppe questa è una bellissima domanda allora dipende dalle posizioni perché se le posizioni sono totalmente agli antipodi direi che sarebbe meglio concentrarsi su una e poi eventualmente nulla vi vieta che in caso magari di esito negativo o nel caso in cui cambia stedea nel corso del leader di selezione potete sempre tornare indietro e ricandidarvi ad una seconda posizione il mio consiglio è quello di concentrarvi su una però capisco anche che molte volte alla fine di un percorso formativo uno una persona possa non avere le idee chiarissime per cui ci sta anche lato vostro la curiosità e l'apertura verso più posizioni e verso più settori fate in modo che ci sia una coerenza quantomeno tra tutte le posizioni per cui vorreste candidarvi poi c'è una domanda di Giada a cui mi piacerebbe dare risposta Giada chiede tenete in considerazione l'ateneo da cui proviene la laurea perché si sente spesso anche questo luogo comune e mi piacerebbe ricevere una smentita ti confermo smentisco assolutamente che non non teniamo conto dell'ateneo nel senso che nel cv prima dicevo inserite il nome dell'istituto ma in realtà potete inserirlo come non inserirlo non è quello che conta e non è quello l'aspetto più rilevante che poi un recruiter guarda in fase di selezione In Accenture cercate figure legate alla consulenza ambientale e sostenibilità e se sì quali sono le competenze che cercate? Allora sì perché appunto come avete visto Accenture è un mondo quindi abbiamo tantissime posizioni per ogni tipo di settore che vi venga in mente e in ogni mercato e industria che vi venga in mente magari parliamo in privato sulle posizioni nello specifico così ti so indirizzare anche verso le persone che poi si occupano direttamente di quell'ambito Allora facciamo prendere un bicchier d'acqua ad Elena perché altrimenti finisce il fiato Alessandro torno da te perché c'era Francesco che ti chiedeva il tuo percorso formativo anche lui appassionato in digital marketing Lo condivido volentieri non so quanto possa aiutarti ma lo condivido volentieri io ho studiato giornalismo e sono poi entrato a far parte del team Accenture occupandomi all'inizio dell'ufficio stampa quindi un percorso non proprio digital anche se il mio corso di giornalismo era un corso di giornalismo multimediale Perfetto grazie Alessandro Allora Elena io torno da te perché avevo salvato la domanda di di Klaus per qualche anno ho seguito un corso ma poi ho capito che non era quello nel quale vedevo un futuro e quindi ho cambiato secondo te Elena è meglio mettere questa esperienza tra le formazioni per colmare il gap di anni oppure no? Ma io direi che se hai seguito il corso inseriscilo tranquillamente poi nessuno ti giudica no? Nel corso della vita succedono tante cose per cui il fatto che tu abbia deciso di cambiare direzione non è assolutamente un qualcosa che ti penalizza quindi inseriscilo se l'hai fatto e poi durante il colloquio anche qui racconterai quello che è stato il tuo percorso quali sono le motivazioni che ti hanno portato invece a cambiare direzione cambiare ricordiamoci che è sempre sinonimo di intelligenza allora io leggo leggo l'ultimo perché poi ci ritagliamo lo spazio per un per un quizone con tre consulenze in palio la domanda delle domande quanto conta l'età per un recruiter? ma quanto conta non conta l'età vi direi conta l'esperienza professionale che uno ha gli obiettivi che uno ha per un neolaureato conta tanto direi più di tutto quella che è la motivazione e l'interesse verso una determinata posizione verso una determinata azienda ma l'età ad oggi per fortuna possiamo dire che non è più un fattore per fortuna così rilevante perfetto ottimo abbiamo ricevuto tante altre domande poi Alessandro è stato gentilissimo per aver condiviso i link delle posizioni aperte in Accenture ha ribadito più volte di contattarci su LinkedIn vale lo stesso discorso vale per me insomma se volete contattarmi per quanto riguarda l'organizzazione del percorso Roberta Elena Alessandro sono super attivi quindi sentiamoci anche privatamente io adesso vi condivido il mio schermo perché per ogni esperienza online del percorso Power Skills Journey noi abbiamo messo in palio tre consulenze tre consulenze con gli esperti del nostro team durante le quali avrete di fatto libertà di fare domande e quindi di chiedere consigli per quanto riguarda il curriculum soft skill programmi più utilizzati in azienda modi per entrare in consulenza e così via e quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo preparato un quiz tre domande con classifica provvisoria e poi classifica finale le prime tre persone della classifica finale avranno diciamo questa questa bella opportunità sarete ricontattati direttamente da noi quindi quello che vi chiediamo è di inserire il vostro nome magari anche il vostro cognome quando vi registrate qui su menti.com potete sia scansionare il QR code inserire il codice che trovate che trovate in basso io nel frattempo vedo 90 ecco 102 persone che ci hanno raggiunto qui su su menti aspetto aspetto un altro po' perché invece su zoom siamo 295 quindi vediamo vediamo qualche altro qualche altro secondo non so Alessandro Elena se nel frattempo nel prossimo minuto nel frattempo che arrivino tutti gli altri volete rispondere a qualche altra domanda certo siamo qui apposta Alessandro se mi dai il supporto tu per la chat perché io sto condividendo e mi è più complicato allora vediamo c'è una domanda rispetto ci sono diverse domande rispetto a specifici percorsi di laurea ma quindi credo che sia più opportuno rispondere privatamente una domanda riguardava i progetti fatti durante il percorso universitario dove sarebbe meglio inserirli i primi riconoscimenti ricevuti vanno inseriti domanda di Anna Maria i primi riconoscimenti ho capito i primi riconoscimenti ricevuti durante il percorso universitario per i progetti fatti durante il percorso allora se i progetti mi ripeto però alla fine la risposta è questa se i progetti che avete seguito sono compatibili con la posizione e quindi possono suscitare aumentare l'interesse dell'azienda che li riceve ben venga inseriteli all'interno del CP anche magari tranquillamente nell'esperienza formativa perché alla fine si tratta sempre di formazione se però l'intenzione è quella di fare l'elenco degli esami conseguiti o dei corsi o dei progetti a quel punto il rischio è di diventare un po' caotici quindi seguite sempre la linea guida è inerente lo inserisco non è inerente evito di farlo perfetto allora facciamo così visto che siamo arrivati comunque a 242 il numero si sta stabilizzando io direi di partire ragazzi avete 15 secondi per rispondere a ciascuna delle domande conta anche la velocità che che impiegherete di fatto i secondi che impiegherete per rispondere alla domanda partiamo con la prima allora eccoci qui tra l'altro le domande ripercorrono quello che Alessandro ed Elena hanno snocciolato fino a poco fa quindi non ci siamo inventati nulla allora andiamo andiamo avanti 226 30 persone pronte e passo opsi donatemi premo invio per partire allora la prima domanda che vi facciamo è come deve essere un buon personal brand vediamo chi ha il dito più veloce e ovviamente la risposta in questo caso era dinamico autentico immediato e integrato io vado avanti per vedere la classifica provvisuale sono i momenti più belli dove c'è più competizione assoluto su menti e Giulia è il primo posto vediamo se riuscirà a confermare vediamo se il podio rimarrà lo stesso anche per le altre vado avanti così cerchiamo di essere anche puntuali domanda numero due eccola qui da che cosa è caratterizzato un buon post 206 risposte 207 eccoci qua e direi che anche in questo caso la risposta era semplice se avete seguito con attenzione Alessandro e quindi vado avanti per vedere la classifica provvisoria vediamo un po' se Giulia conferma il suo primo posto oppure no tanti punti per lei però Olga al momento la supera c'è un un sorpasso ultima domanda ultima possibilità per arrivare tra i primi tre e quindi vincere una consulenza in palio con il nostro team andiamo avanti e lancio la test domanda allora che caratteristiche deve avere un curriculum di te come deve essere ottimo perfetto diciamo che Alessandro Elena Roberta le risposte mi consolano sono state attentissimi per fortuna questa è la cosa più importante vediamo la classifica finale allora Olga veloce anche qui ma vediamo come muta allora Olga si aggiudica il il primo posto io intanto faccio un screenshot così poi così poi ce li ricordiamo e poi c'è anche Francesca e poi c'è Stefano allora Olga Francesca Stefano magari facciamo così contattatemi contattatemi privatamente adesso vi lascio il mio indirizzo mail così poi possiamo così poi possiamo coordinarci per le consulenze allora facciamo così io vi lascio la mia la mia mail per Olga Francesca e Stefano nel frattempo Alessandro Elena se vogliamo rispondere al volo ad altre due tre domande così cerchiamo di far felici di far felici tutti volentieri complimenti a Olga Francesca e a Stefano congratulazioni bravi allora ditemi ditemi pure nel frattempo io scrivo la mia mail Alessandro vai pure vedo una una domanda di Federica la lettera di referenza va inserita subito dopo il cv o è meglio non inserirla allora la lettera potrebbe essere o separata completamente dal cv oppure l'alternativa è all'interno del cv prima dell'anagrafica fare una breve un breve paragrafo di due tre righe quattro al massimo in cui appunto si spiega il motivo per cui valutiamo quella posizione e qual è il valore aggiunto che noi possiamo apportare eventualmente vedevo una domanda poi che riguardava sia i social che il cv di costanza per quanto riguarda la breve descrizione delle esperienze lavorative deve essere elenco puntato usando i verbi all'infinito o descrivendo tutto per Alessandro questo discorso della descrizione vale lo stesso per LinkedIn allora è questione di stile scegliete lo stile che più vi rappresenta a me io sono una persona abbastanza ordinata precisa preferisco l'elenco puntato però se voi invece preferite una descrizione lineare liberissimi di di appunto inserire quello che più vi identifica per quanto riguarda LinkedIn dipende dal modulo in cui volete inserire questa descrizione se volete inserire se reputate questa descrizione così importante da inserirla nel modulo iniziale informazioni consiglio di inserirla in un paragrafo quindi una frase completa se invece volete aggiungerla soltanto o anche nel modulo esperienze che è fatto apposta per questo genere di informazioni vi consiglio appunto anche qui di usare l'elenco puntato come se fosse un CV perfetto ottimo io chiedo soltanto a Francesca Francesca F di di palesarsi ma per il semplice motivo che non non ho letto non c'era il cognome su menti e così non non sbagliamo perché nel frattempo vedevo che Francesca con cognome F non è non è l'unica e quindi Francesca se ti va di scriverci che sei stata tu la seconda allora prima di chiudere vediamo rispondo ad un'ultima domanda vai 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 pure Elena io vorrei lavorare nella consulenza di sostenibilità purtroppo ho sbagliato percorso di studi come posso migliorare questa mia mancanza detto Bruno che non è una mancanza capita a tutti di appunto cambiare quello che magari puoi fare per inserirti più facilmente e seguire un corso che magari ti possa facilitare nell'inserimento del mondo del lavoro allora io intanto eccomi Francesca Fortuna perfetto mi appunto anche il tuo il tuo cognome e grazie grazie a te Alessandro Elena Roberta io ho condiviso anche il link per iscriversi a tutti i prossimi appuntamenti del Power Skills Journey perché lo dico adesso lo ripeto magari qualcuno è entrato qualche istante dopo l'introduzione questo in realtà è soltanto il primo di cinque appuntamenti di cinque voli bellissimi e quindi iscrivetevi anche anche agli altri per completare tutto il viaggio direi direi di utilizzare la metafora del viaggio e se partecipate a quattro almeno quattro di cinque appuntamenti poi potrete ricevere anche l'attestato di partecipazione Alessandro Elena Roberta io vi ringrazio tantissimo del vostro tempo so che tra l'altro Elena la ritroverò nel terzo nel terzo volo se non vado errato giusto Elena? Sì Giuseppe dovrei esserci io non è ancora confermato al cento per cento in ogni caso io ti aspetto se ci sei mi fa piacere è stato un piacere grazie mille a tutti per le domande e ci rincontreremo magari in qualche modo Alessandro e Roberta tanto in un modo o nell'altro li ritrovo anche dietro le quinte quindi ci vediamo presto grazie ragazzi mi farà piacere poi vedere tutti i post che usciranno che ci citeranno e ci tranno questa esperienza e ovviamente noi interagiremo grazie ancora per la partecipazione e vi invito anch'io a partecipare ai prossimi appuntamenti perché sono davvero interessanti se avessi avuto la facoltà di sapere le cose che ci racconteranno i colleghi all'inizio della mia carriera sarebbe stato molto utile c'è un particolare ho visto che c'è un appuntamento sull'email perfetta e quello è clamoroso Alessandro è una skill importantissima decisamente facciamo così facciamo questo momento per lo screenshot finale allora ragazzi accendiamo tutti le videocamere sorrisoni da foto da foto professionale anche se in realtà non sarà in altissima qualità come normale che sia però va bene lo stesso così poi condividiamo tutto su LinkedIn allora faccio così al mio 3 io screenshotto ma lo fate anche voi 1 2 3 e ce l'abbiamo grazie ragazzi alla prossima grazie a tutti grazie a voi grazie ciao ciao ciao